Almeno 36 morti ad Aleppo attorno ad un convoglio di aiuti umanitari dell'ONU incendiato nella notte. Immediate le accuse di Washington a Mosca. Ma le immagini dei droni del Ministero della difesa russo dimostrano che non c'è stato nessun attacco, né tantomeno un coinvolgimento delle forze armate russe e siriane. Tutti i cargo sono stati monitorati dai droni fino al momento della consegna. Il convoglio avrebbe preso fuoco, in modo strano, afferma Mosca, proprio simultaneamente l'inizio di un attacco terroristico di Jabhat Fatah al-Sham nel quartiere di Al-Shaif nel nord di Aleppo, respinto dall'esercito siriano con il sostegno di Hezbollah e dalla aeronautica russa. In Siria la tregua può funzionare solo se i terroristi fermano gli attacchi, ma per ora le speranze di una ripresa del cessa del fuoco sono molto deboli. Per il Cremlino le regole sono semplici. Si deve smettere di sparare ed è necessario che i terroristi smettano di attaccare le forze armate siriane. E naturalmente non guasterebbe che gli americani non bombardassero occidentalmente i siriani. Due cittadini italiani e un canadese sono stati rapiti sulla strada che porta all'aeroporto della città di Ghat nel sud ovest della Libia. Secondo gli apparati di sicurezza l'area non è ad alto rischio. In realtà il Fezzan, al confine con il sud dell'Algeria e il Niger, è zona di bande armate e di trafficanti di esseri umani. Una delle principali rotte del traffico di droga è passaggio decisivo di cellule terroristiche legata ad Al-Qaeda. La zona, già definita covo di vipere dai francesi, potrebbe essere la nuova base del califato dopo Sirte. Ancora una volta c'è dunque la possibilità che si debba intavolare un dialogo con soggetti che ogni giorno cambiano atteggiamento, priorità, modalità operative e richieste, passando con grande facilità dallo status di banditi a soldati della Jihad a esponenti del califato. La Libia deve tornare a essere un paese stabile e solido, aveva twittato da Washington il premier Renzi nell'aprile scorso. Ma la missione di assistenza internazionale alla Libia non può che raccogliere altri cocci. Oggi gli Stati Uniti d'America e le maggiori potenze europee si spartiscono al bottino della più grande rapina del secolo, 150 miliardi di dollari di fondi sovrani libici, confiscati nel 2011. Tutto il resto è dettaglio. La Corte Costituzionale ha rinviato il giudizio che doveva esprimere il 4 ottobre prossimo sull'incostituzionalità dell'italicum. Un bel favore al governo, perché un giudizio negativo della consulta sull'italicum avrebbe probabilmente influenzato la campagna referendaria favorendo il fronte del no. Prendiamo atto della decisione della consulta, ma siamo pronti a riproporre il referendum qualora la Corte non dovesse demolire l'italicum come ha fatto con il Procellum. Così ha commentato la decisione Alfiero Grandi, vicepresidente del Comitato per il no. Ora, secondo Grandi, il referendum inevitabilmente si caricherà anche del giudizio sulla legge elettorale, perché il governo non farà nulla per modificare l'italicum prima. Intanto, a poche ore dal voto di Montecitorio sulla mozione di sinistra italiana contro l'italicum, il Movimento 5 Stelle propone un proporzionale corretto, senza premio di maggioranza e senza coalizioni pre-elettorali.